Il dottor Michael Hunter è a conoscenza di una verità nascosta, fino a quando un pesante segreto torna a perseguitarlo. Hai visto tuo padre uscire da tua madre? Che razza di domanda è questa? Condizionerà il tuo mondo. No, 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 chef! È pericoloso! Non lo devi vedere! Scoprirà le tue debolezioni. E poi colpirà. Il candidato all'Oscar Indy Garcia, Terry Pollard. Ma mia figlia! No! The Unset. Sotto silenzio. Sotto silenzio.